In apertura la notizia che sta rimbalzando un po' su tutte le testate anche nazionali perché c'è il sequestro, il ritiro e il livello di utilizzo e il sequestro da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, di un certo lotto del vaccino AstraZeneca. Un lotto determinato, non tutti i vaccini AstraZeneca, è bene dirlo. Il ritiro da parte dell'AIFA è stato deciso in via precauzionale e appunto è stato emesso il divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi avvenuti dopo la somministrazione. Il lotto in questione è l'ABV 2856 distribuito appunto in tutta Italia. L'AIFA si riserva anche di prendere ulteriori provvedimenti ove necessario anche in stretto coordinamento con l'Agenzia del Farmaco Europeo, l'EMA. I casi avversi in particolare riguardano delle morti sospette in Sicilia per trombosi. Certo è che in Abruzzo sono state molte le segnalazioni di cittadini che anche ai giornali e alla nostra televisione hanno lamentato febbre alte e malessere generale dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Bisognerà capire se questi sintomi rientrino in una normale casistica di sintomi legati alla dopo vaccinazione, se soprattutto siano riconducibili all'otto sospetto e se gli effetti collaterali lamentati si limitano alla febbre alta e naturalmente non abbiano altre problematiche. C'è da dire anche, abbiamo parlato poi nel pomeriggio con il sindaco di Montesilvano perché alla pala di Martin sono ancora in corso, le vaccinazioni sono in corso, non sono state sospese così come si sentiva dire anche sui social. Il sindaco Ottavio De Martinis ci ha detto che sono stati 305 i vaccini del lotto appunto poi ritirato già somministrati, 45 erano in attesa di somministrazione ma adesso ovviamente sono stati ritirati e portati via dal NAS e subito sostituiti con altri lotti del vaccino. Quindi le vaccinazioni proseguono, dei 305 somministrati, ha detto il sindaco, non sembra siano arrivati effetti collaterali particolari, almeno non segnalazioni significative.